Primo giorno di lavoro serrato per la Virtus Lanciano nel ritiro casalingo in città. Come tradizione la squadra si è sottoposta ai test mapei per valutare lo stato fisico di ogni singolo atleta. Nel pomeriggio lavoro sul campo agli ordini di Mister D'Aversa. Si aspettava per oggi il via libera della FIGC per l'ammissione del tecnico al supercorso di Coverciano. La decisione slittata forse a giovedì. Dunque la presentazione ufficiale dell'allenatore si terrà in questo fine settimana salvo sorprese. Proprio D'Aversa aspetta volti nuovi e rinforzi interessanti soprattutto a centrocampo in attacco. Nella zona nevralgica è arrivato a Gazzi ma non basta. Riflettori puntati sul brasiliano dell'Empoli Ronaldo da Silva. In attacco piace tanto Abu Diop del Torino ma pesa l'ingaggio. La Virtus cerca di limare per ottenere il giocatore. Il DS Leone infatti è alle prese come sempre con un budget risicato da far fruttare al massimo. Gatto dovrebbe rientrare dall'Atalanta con rinnovo del prestito ma col 4-3 col quale dovrebbe giocare la Virtus servono altri esterni. Pietro Iemmello, altro nome caldo. Parola a Domenico Di Cecco. C'è Roberto D'Aversa. Il mister c'è, non c'è più Roberto, oramai dobbiamo chiamarlo mister, dobbiamo stare attenti perché ha preso questo ruolo importante per una squadra però è chiaro che lui già quando giocava, già l'anno scorso non dico che era un allenatore però già si vedeva che il suo ruolo e il suo destino era quello. Quindi siamo i ragazzi più felici del mondo, non ci poteva essere guida migliore per noi. Quindi il gruppo è tutto con lui? Sì, se Roberto fa 50 km a piedi tutto il gruppo lo seguirà sicuramente uguale quindi sarà sicuramente il nostro capogruppo, la nostra guida e noi non dobbiamo far altro che seguirlo.